Ciao ragazzi e ragazzi, parliamo di Adrian Shaw. Morgan, il super ospite di Adriano Celentano, questa sera è stato spettacolare. Nel video precedente abbiamo parlato della grande ammirazione di Morgan verso Celentano, quindi se non l'avete visto andatelo a vedere sul mio canale. Parliamo della restante intervista. Mentre prima i toni erano piacevoli e a tratti emozionanti, la scena si sposta sull'ironico divertente. Celentano ricorda il musicista quando faceva il giudice a X Factor e lo ricorda con ammirazione anche per la sua unicità, lo definisce appunto unico. Ma l'attimosfera si spezza quando Celentano sottolinea a Morgan che lui sottovoce ha appena detto una parolaccia e non se ne è nemmeno accorto. Ecco che qui Morgan lo definisce un libero pensatore e uno smontatore. E dice lui smonta proprio tutto, smonta anche la macchina dello spettacolo perché fa entrare la verità. Nanni Moretti ha smontato il cinema, David Bowie ha smontato il rock, invece Adriano Celentano ha smontato la televisione italiana. E qui parte un applausone del pubblico. Morgan ricorda anche che negli anni 60 tutti imitavano il vestito e le mosse di un personaggio, anche se non comprendevano il vero significato del messaggio. Aggiunge anche che Celentano è stato l'unico a fare il rock and roll, quello vero. E afferma che Celentano è il rock e io sono nulla in confronto con la sua enorme carriera. Grazie per avermi invitato. Ovviamente scatta l'applausone del pubblico e anche il mio. I miei complimenti ad Adriano Celentano e Morgan. E voi avete seguito la trasmissione? Cosa ne pensate? Commentate pure. Io vi saluto e a presto con un nuovo video. Bye bye! Grazie a tutti.